Una sorta di viaggio itinerante per riscoprire il patrimonio artistico-culturale del capologo Peligno, puntando l'accento sulle fontane e sull'acqua. Questo è filo conduttore dell'undicesima edizione del Vessillo, il giornale ufficiale del Sestiere di Porta Iapassili, presentato ieri davanti a un folto pubblico nella splendida cornicere e cortile della Santissima Annunziata. Nella rivista si trova di tutto e di più, fontane, pozzi, fontanoni, lavatoi, conche, sorgenti e le varie declinazioni dell'acqua, un elemento che consolida il legame di amicizia fra i Sestiere e le città gemellate di Anversa delle Abruzzi e Zante. Il Vessillo 2016 sviscerà anche le varie manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno nella città di Sulmona, quasi rappresentare una sorta di memorandum per sigillare la storia e la tradizione della patria di Ovidio. Da ormai 11 anni lavoriamo per raccontare la giostra e Sulmona in un giornale, che arriva con le sue 10.000 copie anche all'estero, sottolinea il capitano del Sestiere di Porta Iapassili, Antonio Cinque. Queste copie sono distribuite su tutto il territorio regionale, nazionale e anche all'estero, grazie anche ai gemellaggi che abbiamo con l'isola greca di Zante, ma anche con tante altre amicizie che abbiamo in giro per il mondo. Al centro della pubblicazione il recupero della fontana Iapassili, che versa in condizioni di degrado e abbandono, lo fa capire nelle sue righe introduttive anche il direttore responsabile del Vessillo, Antonio Di Bacco. Alla presentazione della rivista, coordinata da Claudio Natale, sono intervenuti oltre a cinque e all'anima del giornale, Vincenzo Di Primio, il presidente onorario della giostra, Mimo Taglieri, presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, Katia Di Marzio, l'assessore del comune di Anversa, Mario Giannantonio. Si è creato un rapporto così intenso, così partecipato con gli amici di Porta Iapassili e col popolo della giostra, che il borgo di Anversa in qualche maniera se ne sente onorato. La giostra non è un fatto folcloristico, è anche un fatto cosulitico, ma è un fatto fortemente culturale ed è praticamente il luogo, il sestiere, il borgo, nel quale il cittadino si riunisce e affronta anche i problemi della città. Al termine della presentazione, seguito il percorso itinerante per le fontane della città, guidato da Maria Dedeo, che ha ricordato come lo stesso poeta Ovidio cantò la ricchezza delle acque dell'antica sulmona. Se pensiamo che Ovidio ha cantato la sua città a Natale come sulmona ricca di gialli d'acque e se ricordiamo in quanti luoghi si è svolta l'attività cittadina a tutti i livelli, quindi dal popolare fin via Susu a quella dei nobili con i pozzi nelle antiche case, ecco qua che naturalmente ci viene davvero naturale dare il valore che compete a queste fonti.